Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, oggi parliamo di Bright, un video che doveva uscire un po' di tempo fa ma che appunto non è uscito sul canale per problemi tecnici, tempistici e il solito maradani di problemi che ci si presentano di volta in volta di settimana in settimana, stiamo cercando di portare i più contenuti possibili sempre nel limite delle nostre possibilità causa università ed altri problemi che ci ruvano più tempo del previsto e quindi non riusciamo a portare moltissimi video oggi ritorniamo appunto domenica con il nostro appuntamento settimanale fisso e oggi parliamo di Bright Bright, un film originale Netflix con Joel Edgerton e Will Smith, il film è dello stesso regista di Fury, dello stesso regista di Suicide Squad la storia è trattata alla stessa maniera, nel senso che moltissimi elementi sono aggiunti senza assolutamente nessuna relazione alla storia se non per un carattere visivo, figurativo, se non come elementi all'interno di un contesto senza assolutamente nessuna valenza di significato per la storia uno che mi viene in mente subito, così di primo impatto, è un dragone enorme che sorvola la città ma che questo drago non sarà assolutamente un elemento importante per lo svolgimento del programma narrativo né tantomeno avrà alcuna relazione con la storia bene, la storia comincia con questo agente degli umani che si trova a collaborare in coppia con un agente di polizia è il primo della storia a diventare agente di polizia fra la stirpe degli orchi e non vanno d'accordo, non vanno d'accordo perché ci sono problemi di razze, ci sono problemi di integrazione sociale tutto quell'ammaranan di roba che fanno di questo film effettivamente un bellissimo concept per sviluppare un tema del genere è un film fantasy, è un film che attraverso la fantasia gioca con la storia, gioca con i personaggi e li gestisce come se fossero parte del nostro universo, del nostro mondo non si ragiona come in un mondo fantasy alla Game of Thrones o al Signore degli Anelli si ragiona effettivamente come si ragiona vedendo un film ambientato ai nostri giorni in quanto tutto quanto il film è costruito sulla metafora del fantasy come riflesso della nostra società quindi c'è il razzismo con gli orchi, ci sono le bande che fanno scorrerie nella notte degli orchi ci sono gli elfi che hanno più soldi di tutti, sono i ricchi della società e vivono nelle grandi metropoli e infine abbiamo gli umani che sono una via di mezzo fra queste razze allora, il concept abbiamo detto, ripetiamo, è bello non è una brutta idea per sviluppare una sceneggiatura del genere il fatto è che tecnicamente non è neanche girato male ma non posso dire che è un bel film, proprio perché ci stanno buchi di sceneggiatura e bogliate enormi quale quella del drago, ma quale anche quella della fate iniziale c'è questa fatina, tanto carina, che però è, diciamo, un po' il parassita della situazione rompe un po' le palle al personaggio di Will Smith all'inizio Will Smith si trova ad uccidere questa fata agli occhi degli altri che comunque lo deridono e scherzano appunto su di lui, eccetera non torneranno mai più le fate nella storia allora, mi spieghi? adesso io parlo direttamente con il re aspettate che mi metto a fuoco voglio sapere che c***o c'entrava una fata in quella scena un'altra cosa che non mi è piaciuta come buco di sceneggiatura è che quando scoppia il casino riassunto in questo modo, è un po' spartano quando scoppia effettivamente il casino quindi si arriva al mondo straordinario diciamo Will Smith si trova costretto ad uccidere altri suoi colleghi per difendere il suo orco il suo orco anche questa frase è un po' razzista si trova a difenderlo a discapito di perdere la posizione di lavoro e di tutte le problematiche che si troverà davanti in seguito durante il corso del racconto allora, appena scoppia il casino chiama la moglie e le dice cara, sono le parole precise, non me le ricordo comunque dice, c'è stato una sorta di dialogo simile a questo cara, abbandona la città sono incasinato ho ucciso altri miei colleghi abbandona la città, scappa via bene, bene, pa, 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 pa chiuso la moglie presumibilmente scappa per andare al sicuro in un luogo sicuro la moglie presumibilmente scappa per andare in un luogo sicuro non ci verrà affatto alcun cenno di questa moglie in seguito finisce la storia che la moglie non si sa perché, non si sa per come ritorna sul luogo di partenza della storia non c'è un nesso logico fra la moglie che scappa non ci viene presentata alcuna situazione in cui sarà la moglie nel mentre del casino e alla fine senza neanche uno squillo oh amore è finito il casino, ritorna no, lei ritorna, già sa tutto e la ritroviamo con Will Smith nella risoluzione finale degli eventi e beh, non è proprio così che si costruisce una storia e non si arriva ad un finale in questo modo comunque il film effettivamente non mi è piaciuto granché come avrete capito sicuramente per questi buchi di sceneggiatura per queste incertezze anche nella struttura della storia e nel rapporto fra la sceneggiatura e poi l'approccio con il visuale quindi con la costruzione audiovisiva e cinematografica del film e non mi aspettavo assolutamente niente da questo regista credevo che Combright magari essendo una produzione di Netflix e essendo un film di Netflix magari riusciva a risollevare un po' l'andazzo con il quale Netflix aveva prodotto boiate come Death Note e tutti gli altri film di cui abbiamo già parlato in passato War Machine parentesi enorme una cagata così non l'ho mai vista comunque noi ci vediamo al prossimo video questo video finisce qui voi iscrivetevi mettete like se il video vi è piaciuto commentate e ditemi cosa ne pensate di Bright cosa ne pensate di questo film e di tutti gli altri film andateli a recuperare sul mio canale io vi lascio qui sopra non so quale video comunque cliccate perché magari vi siete persi un contenuto e qui sopra lo ritroverete ci vediamo alla prossima